buongiorno mi chiamo Elena Gilli sono fondatrice di un'associazione di un'organizzazione non profit che si chiama Tactus e mi occupo di contatto la mia idea la mia missione è quella di divulgare la cultura del contatto lavoro in Italia lavoro all'estero tra le attività che svolgo c'è Vibrance Vibrance è un'arte performativa è un'arte che passa attraverso il movimento la danza i suoni il canto la voce principalmente non è necessario saper cantare ma è assolutamente necessario poter usare la propria voce il percorso proposto è un mini percorso di scoperta del nostro corpo nostro corpo come strumento musicale in grado di trovare il proprio equilibrio trovare il proprio posto muoversi come meglio si sente vibrare vibrare noi siamo vibrazione già che siamo energia questo è l'obiettivo degli incontri che faremo attraverso Vibrance permettere al nostro corpo di esprimersi con ognuno con il proprio bagaglio quindi vi aspetto per vibrare insieme grazie